Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a Villa San Saverio, siamo qui. La Scuola Superiore di Catania questa sera ospita un evento particolarmente importante e interessante che inaugura le celebrazioni del 25ennale dalla fondazione della Scuola di Eccellenza Catanese che quest'anno ospiterà insieme alle iniziative di tutti i dipartimenti. Apriamo con il Dipartimento di Economia e Impresa che ringraziamo particolarmente per questo impegno nella persona del direttore e di tutti i colleghi presenti. La Scuola Superiore ospiterà anche una serie di altre iniziative promosse dai singoli dipartimenti e centri di studio del nostro Ateneo e ospiterà i presidenti e i direttori della rete delle scuole italiane di eccellenza che collaborano alla organizzazione di questi cicli seminariali qui noti come i colloquia della Scuola Superiore di Catania. Il mio compito è di ringraziamento, di saluto a tutti i presenti e gli ospiti, in particolare alla professoressa Paola Sapienza che aspettavamo con orgoglio, un nome importante la cui presenza ci onora davvero, insieme ai nostri ospiti, tutti gli ospiti di questa sera. Do subito la parola al professore Isidoro Mazza che coordinerà questa serata e alla professoressa Tiziana Cuccia per la presentazione. Vi riferisco i saluti più cordiali del magnifico rettore, il professor Francesco Priolo, del presidente della Scuola Superiore di Catania, il professor Daniele Malfitana. Entrambi si scusano per non essere qui questa sera per impegni istituzionali fuori sede. Riporto anche il saluto cordiale, lo abbiamo qui collegato con noi, del professor Giuseppe Angilella, che coordina una delle due classi della Scuola Superiore di Catania, la classe delle scienze sperimentali. Io, insieme a Giuseppe, mi occupo del coordinamento della classe delle scienze umanistiche e sociali. Sono presenti gli allievi e le allieve residenti in questo momento a scuola, è tempo di esami, è tempo di sessione, ma l'importanza dell'evento e la presenza vostra qui, questo pomeriggio, con questo tema, questi argomenti e questo panel, meritava un'attenzione particolare. Quindi invito tutti i studenti e le studentesse presenti a partecipare attivamente al dibattito, è un'occasione imperdibile per un confronto fruttuoso con i nostri ospiti. Buon lavoro, vi seguirò qui in presenza, lascio la parola al professor Isidoro Mazza. Grazie professoressa Di Stefano, grazie per essere qui oggi. Abbiamo una giornata particolarmente importante, sia per i temi che sanno trattati, sia soprattutto, anzi, per i partecipanti. Non dirò altro, visto che oggi ci sarà molto riscute, la professoressa Cuccia introdurrà i nostri invitati. Abbiamo qui presente la professoressa Paola Sapienza, dalla Keller School of Management at Northwestern University, che ringrazio essere qui con noi. il professor Giorgio Brunello, professore di Polireconomica Università di Padova, il dottore Emiliano Abramo, presidente della comunità di Sant'Egidio di Catania, l'avvocato Rosario Valastro, presidente internazionale della Croce Rossa italiana, l'astbandonist della professoressa Di Stefano Cuccia, che presenterà appunto i invitati di oggi. Grazie, grazie a tutti per essere presenti, grazie alla professoressa Di Stefano e al collega Isidoro Mazza. Mi ritaglio questi qualche minuto per introdurre, come abbiamo pensato, l'organizzazione di questo evento, che appunto, come ha ben detto la professoressa Di Stefano, è il nostro contributo, il contributo del nostro ripartimento alle celebrazioni per i 25 anni dell'istituzione della scuola superiore. La scuola superiore, abbiamo appena avuto occasione con i redatori di fare un giro a questa denominazione, è interdisciplinare, vuole mettere, far vivere, diciamo, nella comunità, far risiedere, nello stesso bella villa San Saverio, dove qui ci troviamo stasera, studenti che appartengono a diversi corsi di laurea, proprio per questo principio di contaminazione e di approfondimento che caratterizza le scuole superiori. E quindi noi ci siamo proposti come Dipartimento, nell'organizzare questa giornata, che ci fossero tre aspetti fondamentali. L'interdisciplinarietà, che quindi rispettasse le caratteristiche di questa scuola e riuscisse a coinvolgere gli studenti, pur non necessariamente studenti dei corsi di laurea d'economia. E di ovviamente onorare con una presenza di correlatori di altissimo livello, che però dovessero rappresentare, autorevolmente, come presenterò fra poco, sia il mondo accademico, ma anche quello che noi definiamo la società civile, visto anche il tema che è appunto cultura, istruzione, inclusione sociale e un'analisi economica. E infine questo coinvolgimento di questi due mondi, che difficilmente si trovano a discutere su questi temi, risponde anche a un'esigenza, a una proposta che vive e vivrà in questi anni il nostro Dipartimento, essendo appunto proponente e referente di un parterariato esteso, diciamo definito progetto Greens, su finanziamenti appunto di fondi PNRR, quindi Growing Resilience Inclusion Sustainability, una crescita resiliente, inclusiva, socialmente e appunto sostenibile. E noi siamo appunto i referenti, i proponenti per l'Università di Cusco, che riguarda la sostenibilità sociale. Quindi, come dire, siamo riusciti a costruire, ovviamente grazie alla disponibilità, in primis della professoressa Paola Sapienza, che io ho contattato perché appunto frequentavamo le stesse scuole, io un po' più vecchietta, e quindi, come dire, è stato anche un modo per risentirci dopo tantissimi anni, appunto, degli anni del liceo. E qui infatti ci sono anche compagni, diciamo, di avventura liceale. La professoressa, che dire la professoressa Paola Sapienza? La professoressa Paola Sapienza è nata e cresciuta a Catania, ha studiato fino al primo anno di università, presso appunto l'Università di Catania, poi è volata verso la Bocconi di Milano, e lì poi, da lì, si è trasferita, dopo appunto essersi laureata alla Bocconi, ad Harvard, dove ha conseguito il Master of Arts e poi il PhD. Da lì poi, come ha già anticipato il mio collega, è passata alla Northwestern University e l'ha fatto tutta la sua carriera accademica nella Kellogg School of Management della Northwestern University, dove dal 2014 ha, diciamo, la cattedra Donald Clark dell'Università. In Consumer Finance, quindi i suoi temi sono di finanza, però c'è sempre un tratto che io, almeno nel rivedere, nel guardare il suo curriculum colgo, questo interesse per la cultura, tra le sue prime pubblicazioni appunto era l'effetto della cultura sullo sviluppo finanziario locale, che poi dà cultura come norme sociali, come capitale sociale, come fiducia, poi via via procedendo nel corso della sua carriera accademica, è diventato anche un interesse come, come dire, si trasmettono, diciamo, sia in famiglia, sia nella società, determinate appunto scelte, come veniamo in fondo influenzati, uomini, donne, diciamo, nelle scelte che noi facciamo del nostro percorso di studi e quindi poi del nostro futuro lavorativo. E tutto questo, sì, ha un impatto individuale, ma inevitabilmente lo vede anche come noi economisti lo vediamo, non a caso analisi economiche, anche nell'impatto macroeconomico che tutto questo ha, quindi anche nell'impatto sulla società. e ha avuto numerosi riconoscimenti, premi, forse lo mi viene prima in mente, uno degli ultimi, l'X, del premio della European Economic Association, e pubblica con questo gruppo, io definisco questo cenacolo di economisti italiani oltreoceano, diciamo, che sono i suoi principali coautori sulle principali riviste. Credo che il contributo, di cui oggi uno che verrà menzionato è stato recentemente pubblicato sulla Review of Economic Studies, che è una prestigiosissima rivista. Chiaramente io mi soffermo e è il piacere, l'onore di cui parlava anche la professoressa Di Stefano, è legato al fatto che appunto lei rappresenta un modello, e qui ci siano tanti giovani studenti e studentesse, rappresenta sicuramente un modello che partendo anche dalla nostra situazione, diciamo, insulare si può, con un ottimo percorso di studi, che è come quello che si può fare anche nel nostro territorio, si può arrivare alle più alte vette dell'Accademia Internazionale. Io dovrei dire che una economista, diciamo, una delle principali economiste, come vuole la professoressa Di Stefano, ma io non lo dico come sotto insieme, io direi economisti, è una delle più autorevoli economisti a livello internazionale. Oggi credo che abbia veramente, come dire, toccato quelli che sono i desideri di chiunque, diciamo, più alti, diciamo, di chiunque fa questa carriera. E ovviamente, visto che il tema da lei proposto riguardava questa sua linea di ricerca, che guarda all'istruzione, alle scelte, ai divari, anche di conoscenze, diciamo, e più strettamente vedremo, ed è per questo anche il coinvolgimento dei rappresentanti della società civile riguarda appunto l'impatto in aula della presenza di immigrati anche sugli studenti appunto nativi. Quali sono gli impatti in termini di performance? Una volta che lei ci ha indicato questo tema, io non potevo veramente non chiamare il professore Giorgio Brunello, che è appunto professore di politica economica presso l'Università di Padova, ma che in Italia, io credo che sia il più alto rappresentante di questa linea di ricerca, che guarda appunto ai rendimenti dell'istruzione, al math gaps, per diciamo alle differenze anche i rendimenti di performance in ambito matematico, che possono essere, vengono valutati per genere, per aree geografiche, su cui appunto sta svolgendo un progetto appunto, ha svolto un progetto finanziato dal Ministero, e quindi questo ci permetterà di avere due opinioni che copriranno alla fine sia quelli che sono diciamo gli studi oltre l'oceano su questo impatto diciamo degli immigrati in aula sui nativi, ma anche quello che è invece l'esperienza con una proiezione più italiana ed europea, quindi copriremo tutto. Anche lui è stato all'estero, ma questo è quasi un obbligo per tutti noi che facciamo economia, ha studiato appunto ad Osaka in Giappone, dove ha conseguito anche il dottorato, e dove, lo dico perché sono stata veramente colpita, è stato anche lecturer e assistant professor di economics, è insegnato in giapponese, quindi questo lo dico perché è una cosa che gli fa onore. e questo ha avuto anche proposte di avere posizioni all'estero nell'Università di Lancaster, ma fortunatamente ha deciso di rimanere in Italia. Magari convinceremo anche Paola, chi lo sa, prima o poi, non so, è un po' più difficile. Detto questo, ovviamente non potevamo non mettere appunto come rappresentanti del mondo, del terzo settore, della società civile, due figure altrettanto, come dire, autorevoli, sia a livello nazionale che locale. E appunto abbiamo qui il dottore Emiliano Erbaramo, che è il presidente della comunità di Sant'Egidio di Catania, che ha con l'Università di Catania un rapporto particolare, in quanto è anche un componente del Consiglio di Amministrazione del nostro Ateneo. Ultimo, ma ovviamente non per importanza, è l'avvocato Rosario Balastro, che è un altro nostro insignia cittadino, perché è catanese di nascita, ma ascese, diciamo, di residenza, che è stato da poco eletto presidente nazionale della Croce Rossa italiana. È un esperto in diritto internazionale, umanitario, nei conflitti armati soprattutto, e ha rappresentato la Croce Rossa in alcuni consensi internazionali che riguardavano proprio il congiungimento familiare e appunto le questioni relative agli immigrati. Spero di non avere rubato troppo tempo, ma di avere, come dire, illustrato quello che è il nostro desiderio. Lascio il compito al coordinatore di fare parlare questi due mondi, diciamo. Grazie. Grazie. Grazie mille. Comincio io, Tiziana. Vi sentite? Vi sentite? Buon pomeriggio a tutti. Grazie, Tiziana, per la gentile introduzione. Io nei 45 minuti che ho pensavo di parlare di un tema che ho studiato con vari coautori, non quelli di cui parlava Tiziana, quindi completamente diversi, in cui mi sono dedicata negli ultimi 5-6 anni e con vari coautori, una combinazione di quelli che vedete, e qui ho studiato il tema soprattutto della trasmissione internazionale orizzontale e verticale della cultura e il suo impatto sui risultati accademici dei bambini per lo più. Quindi il mio tema sarà in senso ampio un'analisi fatta su dati per lo più americani, in alcuni casi internazionali con i dati di Pisa, quindi su 33 paesi, però per lo più mi concentrerò su dei risultati che sono fatti su dati americani. Vi do una motivazione principale di questa ricerca. La maggior parte della letteratura su istruzioni, almeno quella che riguarda l'economia, ammetterò poi che ci sono altri campi che hanno studiato in modo alternativo, si concentra fondamentalmente sul ruolo e le caratteristiche delle istituzioni, quindi la qualità delle scuole, i rapporti tra insegnanti e alunni, per esempio la numerosità, grande dibattito in economia, grande nel senso anche molto agguerrito, come determinante fondamentale del successo accademico degli studenti. In questa presentazione io mi sposto completamente e il focus e vado su cultura e soprattutto mi concentrerò sui tratti culturali che possono essere trasmessi verticalmente dai genitori e figli scusi scusate c'è un problema tecnico ok posso? quindi io mi sposto completamente su un altro focus che è quello su cultura e sui tratti culturali che possono essere trasmessi verticalmente dai genitori ai figli oppure se volete da insegnanti a studenti ma purtroppo io non ho quei dati oppure orizzontalmente da studenti a studente questo naturalmente non significa che le istituzioni non contano in termini tecnici in tutta la mia ricerca noi assorbiamo dico purtroppo un termine economico tecnico per gli economisti assorbiamo gli effetti fissi di scuola il che significa che la controlliamo assolutamente per le caratteristiche delle istituzioni comparando quindi studenti che si trovano fisicamente nella stessa scuola ma sono esposti a culture di tipo diverse quindi la comparazione sarà sempre tenendo conto della qualità della scuola quello che vogliamo fare cercare di identificare l'effetto della cultura in isolamento rispetto a quello delle istituzioni quindi per fare questa introduzione ho fatto uno sforzo a tradurre le mie slides in italiano e ho dovuto usare il vocabolario devo ammettere quindi utilizzerò spesso dei termini in inglese perdonatemi perché li ho scritti direttamente in inglese però volevo definire la cultura nel contesto e qui sì che mi rifaccio a una ricerca che ho fatto precedentemente con altri coautori la cultura qui è definita come le preferenze la visione e i valori che gruppi etnici religiosi o sociali trasmettono praticamente non modificati da generazione e generazioni vedrete che gli immigrati sono in realtà un laboratorio di studio estremamente utile perché di solito portano con loro le caratteristiche della popolazione di origine quindi anche da un punto di vista di identificazione di isolamento dell'effetto culturale rispetto a quello delle istituzioni è molto più facile studiare degli immigrati di provenienza culturale diversa che si ritrovano nella stessa scuola quindi sono impattati dalla stessa istituzione da un punto di vista diciamo di rendimenti ma che poi però effettivamente potrebbero comportarsi o produrre risultati completamente diversi vi do delle anticipazioni fondamentali di questi risultati questi sono serie di lavori che abbiamo pubblicato con appunto una combinazione di quegli autori che ho messo all'inizio della presentazione che vorrei introdurre per poi appunto avere una discussione con tutti voi il primo set di risultati dice che la trasmissione dei tratti culturali del paese di origine ha degli impatti significativi sui risultati accademici degli studenti intanto esistono delle variazioni significative dopo aver tenuto conto appunto delle condizioni iniziali delle condizioni demografiche per esempio del reddito delle istruzioni dei genitori e anche degli effetti fissi di scuola quindi delle caratteristiche delle scuole vediamo che i bambini immigrati che vengono da culture completamente diverse nella stessa scuola hanno delle performance molto diverse quindi sono esposti alla stessa istituzione controllando per reddito e istruzione dei genitori ottengono dei risultati molto diversi siamo andati a cercare di vedere quali sono le caratteristiche che li prevedono e questo è una cosa di cui vi parlerò dopo dopodiché vi faccio vedere degli effetti negativi della cultura dei genitori perché la prima parte della presentazione vi dirò che se i genitori hanno delle attitudini che è volti al futuro tendono a sacrificare il presente per il futuro i bambini hanno dei risultati molto più efficaci e quindi voi penserete che la cultura dei genitori è sempre una cosa positiva nella seconda parte vi farò vedere che se i genitori hanno delle attitudini discriminanti soprattutto nelle questioni di genere le bambine che nascono in quelle famiglie hanno di solito una performance in matematica peggiore di bambine che controllando di nuovo per scuola via di seguito quindi la parte della discriminazione nasce in famiglia per prima e vi farò anche vedere che in realtà che è uno dei risultati più incredibili di questa serie di lavori che questo è vero solo nelle famiglie che hanno risorse economiche cioè la discriminazione impatta solo se la famiglia ha delle risorse economiche se invece le famiglie sono povere non riescono a trasmettere questo valore vi spiegherò poi una delle intuizioni del perché normalmente le famiglie che hanno risorse economiche fanno tutto meglio degli altri ma questo è un caso in cui fanno peggio e quindi vi farò vedere perché e poi la terza parte della presentazione vi parlerò della trasmissione orizzontale dopo che vi ho fatto vedere che alcuni studenti immigrati sono particolarmente bravi a parità di condizioni iniziali a parità di scuole mi domando ma gli studenti quindi non immigrati che li vedono che sono a cui loro sono che sono esposti a loro hanno dei benefici a essere esposti e qui il lavoro che vi presenterò che vi riassumerò molto velocemente ribalta completamente la letteratura precedente trovando un risultato che è completamente il contrario di quello che hanno trovato perché noi abbiamo dei dati molto migliori di tutti gli altri non perché siamo più intelligenti e vi spiegherò poi come ci siamo arrivati quindi questi sono i tre risultati principali lasciatemi cominciare col primo che è forse quello su cui spenderò più tempo che è quello delle culture orientate verso il futuro in economia c'è un termine che si chiama la long term orientation non sono riuscita a tradurla che diciamo è la tendenza a rinunciare alla gratificazione nel breve periodo per ottenere risultati di lungo periodo gli economisti in questa sala capiscono che questo è importantissimo perché sostanzialmente misura la pazienza il tasso di sconto ha degli impatti sul risparmio e via di seguito però ha anche come vi dimostrerò degli impatti fortissimi sui risultati accademici dei bambini le origini culturali di questo concetto sono stati studiati in un paper meraviglioso da due professori di Brown nel 2016 in cui loro dimostrano che la la produttività della terra originariamente quindi le condizioni geografiche hanno avuto storicamente un impatto diverso a secondo geograficamente sulla distribuzione geografica delle varie culture e anche delle culture in aree geografiche dove il ritorno produttivo in agricoltura generava incentivi maggiori ad investire si sono formate delle culture abituate a dare un peso maggiore al futuro rispetto al presente se volete se vi domandate com'è l'Italia in realtà loro fanno un'analisi regionale ma l'Italia ha una forte propensione al futuro poi magari c'è altri problemi di altro tipo però se voi pensate anzi nel loro paper loro parlano del famoso aceto balsamico di Modena che ci vogliono cento anni a produrlo quindi queste sono culture veramente orientate al futuro il parmigiano comunque le culture che hanno sostanzialmente un ritorno elevato pur avendo degli investimenti di lungo periodo quindi loro mappano il mondo intero sulla base di queste condizioni geografiche poi fanno vedere a livello macroeconomico come i paesi che hanno avuto controllando per altri fattori di crescita e via di seguito hanno una crescita maggiore in altre parti della letteratura perché voglio dirvi che noi non siamo i primi per gli studenti in questa sala naturalmente nessuno lavora in isolamento bisogna sempre leggere chi ha scritto prima in altra letteratura la patience la pazienza spiega una frazione sostanziale delle differenze in termini di sviluppo economico tra paesi e questo è vero sul tasso di crescita e via di seguito quindi questa focalizzazione sulla long term orientation esisteva già in economia questa è un po' una mappa del mondo dal paper di Odette Galore e coautore che fa vedere le aree più scure sono quelle con una pazienza maggiore con una long term orientation maggiore le aree più chiare sono quelle che ne hanno di meno questa è chiaramente una mappa diciamo molto macro allora noi ci siamo domandati ma questo elemento la la capacità di rinunciare al presente per un ritorno maggiore in futuro ha un impatto sull'istruzione questa è la domanda che è diciamo originale e ci siamo domandati abbiamo cercato di spiegare perché questa poteva essere una cosa plausibile ci sono due ragioni la prima diciamo la più importante è che esiste in realtà una fortissima correlazione tra i risultati accademici e le condizioni socio-economiche delle famiglie questo è vero negli Stati Uniti è vero in tutti i paesi del mondo però nei pochi studi che hanno provato a fare uno studio causale e lo studio causale significa che tu metti della ricchezza all'improvviso alla famiglia e vedi che cosa succede tipicamente le lotterie sono una delle cose che vengono studiate perché è pura fortuna negli Stati Uniti ci fu una famosissima lotteria di terreni che furono dati alla popolazione in modo random e c'è uno studio bellissimo che segue le generazioni successive per vedere se effettivamente la generazione successiva si è riscattata vista la povertà iniziale dei genitori e il risultato è no cioè di fatto buttare con l'elicottero del denaro su un genitore non ha questo effetto causale sul risultato dei bambini e quindi la domanda che ci siamo fatti noi è se i genitori non trasmettono solo il reddito e ricchezza o anche le competenze ma anche un set specifico di valori culturali e allora in questo contesto questo è il paper di cui parlerò abbiamo studiato proprio questo effetto che nasce dal famosissimo test di Michelle uno psicologo famoso a Stanford che studiò sostanzialmente il si chiama il marshmallow test per chi non è americano il marshmallow è una cosa dolciastra terribile che però i bambini americani adorano il test funzionava esattamente così gli si dava a un bambino una bella ciotola con dei marshmallow dentro si lasciava da solo in una stanza e gli si diceva non devi mangiare il marshmallow devi aspettare perché quando poi verrà il tuo tempo forse ne potrai mangiare di più e si contavano i minuti e poi gli si dava una campanella e si contavano i minuti in cui lui suonava sta campanella si misurava sostanzialmente quanto tempo riusciva a resistere e questi bambini furono seguiti per 30 anni quindi Michelle li seguì per 30 anni e scoprì che quelli che rinunciavano che aspettavano di più fondamentalmente chiaramente molti di noi sorridiamo perché diciamo ma chissà magari non gli piaceva il zucchero quindi è un'ipotesi chiaramente però effettivamente ebbero dei risultati nella vita molto migliori e quindi da qui nasce il concetto del marshmallow test che vedete rappresentato qua se lo cercate su internet ci sono un sacco di storie su questo genitori che li provano e via di seguito ok quindi noi che cosa facciamo in questo lavoro facciamo due cose abbiamo utilizziamo dei dati amministrativi della Florida in cui abbiamo dieci anni di informazione su tutti i bambini che vanno in tutte le scuole pubbliche della Florida sappiamo il paese di origine sappiamo se sono prima o seconda generazione di immigrati sappiamo sostanzialmente una serie di caratteristiche demografiche dei genitori conosciamo tutti i loro test risultati a scuola via di seguito conosciamo il loro livello iniziale che è molto importante di performance e poi conosciamo la curva sostanzialmente dopodiché con dei dati molto meno dettagliati il famoso program for international student assessment meno dettagliati perché sono una cross section cioè non sono longitudinali e non permettono di seguire gli stessi bambini over time guardiamo la stessa ci poniamo la stessa domanda in 37 paesi tenendo fisso quindi comparando sostanzialmente la performance di questi bambini di immigrazione diverse di culture diverse in questi in paesi di ricevimento uguali quindi nel paese tu potete immaginarvi che in ogni paese ogni scuola noi compariamo il bambino che viene dalla cultura che rinuncia al presente per il futuro è quella che rinuncia di meno e vediamo il risultato e guardiamo una serie di risultati esterni che sono non solo la capacità di andare avanti a scuola i loro grades come si dice i loro risultati scolastici le materie più difficili che fanno tipo i famosi AP che sono sostanzialmente classi di livello universitario che possono prendere alla scuola superiore vi è riseguito cioè sostanzialmente una batteria di risultati su cui non mi dilungherò ma insomma sostanzialmente e naturalmente ricordatevi che noi controlliamo per la qualità della scuola le caratteristiche demografiche le condizioni socio-economiche le istituzioni dei genitori vi è riseguito quindi questo è un di più una volta che abbiamo assorbito tutte quelle caratteristiche e questa è diciamo la correlazione di fondo nella prima cosa abbiamo risultati di matematica a livello di terza elementare poi lo vediamo in termini di delta cioè la crescita rispetto alla terza elementare e nell'asse delle ascisse invece plottiamo questa long term orientation per paesi di origine e quindi vedete che c'è una correlazione questi risultati diciamo più sintetici che posso darvi poi dopo facciamo le regressioni le cose più complicate via di seguito però sostanzialmente vengono confermate che una serie di caratteristiche sia in matematica che nelle materie umanistiche la probabilità di graduarsi entro un certo periodo di tempo il livello di assenze gli incidenti disciplinari e via di seguito sono tutti correlati sostanzialmente con questo aspetto culturale questo è la parte diciamo per chi vuole essere più non voglio tediarvi con le cose più tecniche però sostanzialmente le correlazioni non spiegano non sono mai causation e bisogna sempre stare attenti e quindi bisogna controllare per una serie di batterie di cose vi farò in questo analisi come in tante altre tavole che ci sono in questo lavoro per chi vuole andare a leggere vi facciamo vedere che sostanzialmente controllando per una batteria di caratteristiche questo risultato sopravvive ed è molto forte ha un impatto molto grande simile a un anno di istruzione in più della madre che ha naturalmente l'istruzione della madre è importantissima nell'impatto dell'istruzione dei figli perché per ovvie ragioni è questo effetto di avere una long term orientation cioè una standard deviation maggiore nella long term orientation è equivalente a quello di avere una madre che ha un anno di istruzione in più quindi questo in letteratura è un effetto economicamente molto grande c'è poi un aspetto molto interessante che vi descriverei come la differenza tra l'assimilazione che probabilmente interesserà i nostri i miei relatori i relatori successivi la differenza tra l'assimilazione e la non assimilazione cioè la seconda generazione naturalmente si assimila di più e quindi perde la cultura perdendo la cultura quando la cultura ha degli impatti superiori ricordiamoci che forse dovevo dirlo all'inizio gli Stati Uniti hanno uno dei più bassi sono nel quartile più basso per long term orientation quindi arrivano questi bambini in questa cultura che ha più una long term orientation più bassa loro se vengono da una long term orientation più alta per loro negli Stati Uniti almeno assimilazione significa assimilarsi alla cultura locale questa assimilazione che chiaramente molto spesso è auspicata o diciamo programmata in realtà ha un impatto di mitigazione di questo effetto che li aiuterebbe altrimenti l'altro aspetto che secondo me è molto interessante è se voi prendete un bambino americano bianco bianco lo dico perché vuol dire più abbiente negli Stati Uniti il socio economic status soprattutto in Florida si misura con la razza purtroppo voi vedrete che la linea gialla qui vedrete che la sua performance in terza elementare predice fondamentalmente la propria carriera scolastica questo non è vero degli immigrati crescono sempre e crescono sempre di più quanto più grande è la long term orientation quindi c'è un delta è una variazione che è abbastanza straordinaria nella letteratura almeno di education di istruzione americana e questo è molto importante quindi questo è vero e lo stesso risultato è vero se scelgo solo le migliori scuole della Florida quindi non è un risultato che deriva dalla qualità delle istituzioni ma è vero anche se lo faccio in questo segmento di scuole qui vi faccio vedere i quartili il first quartile è il più basso in termini di long term orientation e il fourth quartile è il più alto vedete che c'è proprio una relazione monotonica nella performance dei bambini a secondo di quanta long term orientation hanno cioè i risultati sono straordinari da questo punto di vista perché scusate sono andata avanti adesso perché sono perché sono sostanzialmente esattamente in linea la linea questa qui che voi vedete questo verdino così questi qua sono gli americani e gli americani sono proprio nell'ultimo quartile quindi in realtà assomigliano un poco vedete che gli immigrati li raggiungono partono svantaggiati ricordatevi perché hanno problemi di lingua soprattutto la prima generazione ha problemi di lingua e vi di seguito quindi il primo anno è sempre più difficile la terza elementare è la prima volta che vengono testati ma poi sostanzialmente li raggiungono mentre tutti gli altri partono alcuni partono da più basso e li superano tutti quindi questa grande forza dell'immigrato negli Stati Uniti che poi dopo spiega perché l'80% dei brevetti sono firmati sostanzialmente da persone che vengono da una cultura di immigrati e via di seguito questo è vero anche per le materie umanistiche quindi lo salto e questi risultati sono simili quando io utilizzo il campione di Pisa dove invece di guardare solo un paese gli Stati Uniti anzi solo a una regione la Florida vado a guardare tutti i paesi del mondo quindi naturalmente questi qua quando io vi prendo un puntino qua cioè il Giappone cultura di grande orientamento per il futuro questi sono tutti gli studenti giapponesi che vanno nei 37 paesi di Pisa quindi questo puntino è la media di tutti loro e assorbendo naturalmente tutte le caratteristiche di paese e di scuola quindi i giapponesi vanno sempre meglio dappertutto i coreani vedete Corea e Taiwan questi sono praticamente li riconoscete subito questi paesi sono fondamentalmente quelli che hanno una cultura di long term orientation molto elevata gli effetti sono più tenui negli immigrati di prima di seconda generazione di nuovo possibilmente perché c'è un'assimilazione quindi la cultura viene un po' meno quindi fin qui vi ho raccontato una storia in cui c'è un'enorme variazione nei risultati accademici tra diversi immigrati nelle stesse scuole quindi nelle stesse istituzioni dopo aver controllato per le condizioni di origine negli Stati Uniti la tendenza culturale a rinunciare a queste gratificazioni immediati per quello di lungo periodo è correlata con i risultati accademici positivi e questo è anche vero nei 37 diversi paesi quando faccio PISA ma allora potreste dirmi ma allora la cultura dei genitori è tutta positiva allora qui vi faccio una piccola premessa ci sono due paper che ho scritto con altri coautori tra cui una studentessa di dottorato LSI Gaia Dossi dove abbiamo guardato le origini del gap in matematica come sapete c'è ancora in molte culture sempre meno nelle culture più egalitarie un gap in STEM in matematica ma anche scienze tra bambini e bambini nel senso che i maschi tendono a far meglio pur manifestandosi questo gap soltanto nell'adolescenza un momento molto cioè all'inizio non allora naturalmente in questo settore si parla molto di cultura perché la cultura perché si è visto in alcuni lavori ormai di vent'anni vecchi dove si vede che nelle culture più egalitarie da un punto di vista di genere questo gap non esiste cioè non esisteva in Islanda vent'anni fa adesso anzi addirittura si è ribaltato in alcune di queste culture negli Stati Uniti è stata fatta una mappatura degli stati più egalitari tipo la costa est e in quelle scuole nelle scuole superiori della costa est questo gap non esiste quindi si è sempre detto che la cultura intorno a queste bambine aveva un impatto quello che noi andiamo a fare in questi due paper ci chiediamo il ruolo dei genitori e quindi misurando in due modi diversi le preferenze di genere dei genitori e le attitudini riguardo maschi e femmine dimostriamo che sostanzialmente le bambine che crescono in famiglie che prediligono modelli maschili sviluppano di meno la conoscenza della matematica e la cosa che è abbastanza sorprendente è che questo risultato esiste solo in famiglie abbienti più abbienti che condividono gli stereotipi di genere nel senso che queste famiglie dove i genitori possono investire le proprie risorse indirizzando i bambini e le bambine in varie e diverse attività in realtà sono quelle dove questo stereotipo di genere scatta di più perché l'investimento probabilmente sarà di tipo differenziale mentre non esiste tra i bambini che hanno poche che vengono in famiglie con poche risorse economiche anche se i genitori hanno lo stereotipo di genere non vediamo questo effetto quindi uno degli effetti in cui le risorse sono l'ultimo punto che voglio coprire in questo mio intervento è la questione della trasmissione orizzontale di cultura nella scuola questo è un dibattito enorme negli Stati Uniti perché immagino anche in Italia lo seguo meno negli Stati Uniti il 25% dei bambini a scuola sono immigrati di prima generazione e se si conta la seconda generazione si arriva al 50% quindi sostanzialmente con delle punte diverse a secondo della regione naturalmente e quindi il grande dibattito americano si è incentrato sul fatto che troppi bambini immigrati troppe risorse perché bisogna insegnargli l'inglese via di seguito forse detraggono nelle scuole pubbliche naturalmente risorse ai bambini non immigrati per anni questo fenomeno è stato studiato e gli effetti che erano stati trovati sono sempre stati negativi però vi spiego questo è il paper più tecnico che abbiamo scritto vi spiego perché sono negativi con parole semplici c'è una fortissima selezione che in America si chiama the white flight cioè i bambini ricchi bianchi vanno via dalla scuola dove ci sono più immigrati perché hanno stereotipi di vario tipo e andando via da quella scuola riducono fondamentalmente la risorsa disponibile vanno soprattutto in scuole private quindi si sottraggono dal sistema pubblico vanno sulle scuole private e quindi quando poi misuriamo la performance dei bambini che vengono da famiglie con grandi risorse perché sono quelli con le grandi risorse con le risorse economiche che si spostano chiaramente nelle scuole private viene fuori che hanno una performance maggiore quando hanno davanti meno immigrati ma perché hanno scelto di avere meno immigrati quindi tutta la letteratura precedente aveva questo problema grosso di selezione che non si riusciva a risolvere perché i dati amministrativi longitudinali che potessero controllare per questa selezione non erano disponibili in questo studio quello che noi facciamo facciamo una comparazione tra fratelli e sorelle quindi nella stessa famiglia bambini che sono esposti a più o meno bambini immigrati sottraendo quindi l'effetto fisso di famiglia e anche l'effetto fissa di famiglia nel tempo perché effettivamente le famiglie possono evolversi in termini di reddito e quando facciamo questo esercizio mostriamo che i risultati che tradizionalmente altrimenti sarebbero stati di tipo negativo si ribaltano in risultati di tipo positivo questo è come dicevo per più tecnico ve lo spiego diciamo con un esempio di di una tavola dove vi faccio vedere il white flight cioè questo è la prima colonna è il mostra la percentuale di bambini immigrati che in media i bambini nelle nostre scuole pubbliche vedono in Florida ricordatevi che lo stato della Florida è il secondo stato per immigrazione negli Stati Uniti e stiamo parlando di un'immigrazione molto complessa molto vasta molto variegata quindi è esattamente il posto migliore per studiarlo non stiamo parlando dell'immigrazione della California che certe volte è un po' un'immigrazione diciamo di elite se voi vedete il bambino medio vede il 16% di cubani il 10% di messicani il 10% di bambini che vengono da Iti questi sono i primi 10 paesi che vedono poi chiaramente ne vedono molti di più quando io mi sposto però sui bianchi che già sono che si selezionano in certe scuole e anche certi quartieri guardate che cosa succede questi sono i bianchi che si selezionano tra le altre cose sempre nelle scuole pubbliche non nelle scuole private c'è un effetto molto maggiore quando vanno nelle scuole private vedrete che il Messico è al 13% il Porto Rico al 7% poi c'è la Colombia ma scompare la Germania compare il Canada compare la Cina che non vedete altrove cioè sostanzialmente la selezione si sposta verso diversi tipi di immigrati e questo lo vedete di nuovo se io vado sulla comunità ispanica la comunità ispanica invece vede il 46% di cubani quindi voi immaginate queste scuole che sommato si autosegregano perché poi in Florida c'è un diritto di spostamento quindi tutti possono andare nelle scuole quindi è una decisione dei genitori però sostanzialmente ci sono questi questi gruppi che si spostano quindi chi vede chi è molto importante in economia questo si chiama l'effetto di selezione e non si può scrivere un paper causale se non si risolve questo problema dell'effetto di selezione lo posso fare lo posso fare vedere anche per razza o gruppo etnico il 62% sono ispanici il 17% sono neri il 13% sono bianchi ma quando poi vado a vedere le scuole dove si trovano la maggior parte dei bianchi nativi vedete che gli immigrati che loro vedono hanno il 29% sono bianchi quindi sostanzialmente ci sono questi spostamenti di popolazione che vuol dire anche selezione degli immigrati in certe zone ma anche selezioni dei nativi in altre zone se uno non tiene conto di questi effetti trova degli effetti negativi perché chi si sposta di più sono quelli che hanno più risorse e si spostano in posti dove ci sono meno immigrati quindi voi troverete una correlazione tra numero di immigrati e performance che sembra che sembra negativa ma in realtà è dovuta alle risorse economiche quindi dovete controllare per le risorse economiche e così noi facciamo in questo studio quindi se non controlliamo per le risorse economiche ci riviene fuori che soprattutto i bianchi sono influenzati negativamente e vedete questo è l'effetto dei bianchi questi sono gli effetti dei bambini che non ricevono la mensa gratis cioè sostanzialmente i bambini più facoltosi mentre l'effetto sembra positivo per quelli per quelli che sono neri che sono più poveri in generale ricordatevi quello che ho detto prima la razza in florida significa sostanzialmente è una proxy per per valore di reddito e questo è un valore di reddito quando io invece mi tengo conto della selezione questo è il motivo per cui questo paper diciamo all'elemento di novità quando io tengo conto della selezione che è sostanzialmente quello che gli economisti sanno fare molto bene in realtà l'effetto è sempre positivo non è così positivo come sembrava qua perché molto di questo veniva dalla correlazione sostanzialmente è più positivo per i più poveri senz'altro però sostanzialmente l'effetto è positivo questo ribalta completamente la letteratura economica fino a questo momento negli Stati Uniti su questi effetti quindi in questo senso è molto importante soprattutto per il dibattito di politica economica che c'è nel paper nel paper vabbè volevo concludere vabbè me l'avete tolta però vabbè nel paper discutiamo dei meccanismi alcuni di questi meccanismi hanno a fare con l'esposizione a queste culture di immigrati che hanno alcune caratteristiche però concludo velocemente che cosa vi ho fatto vedere a differenza di altre discipline sociali l'economia per molti anni ha ignorato il ruolo della cultura nel determinare le scelte e i risultati economici in realtà la mia ricerca come diceva Tiziana all'inizio è quasi tutta incentrata sin dall'inizio sul ruolo della cultura all'inizio ricordatevi che Max Weber era quello che diceva in realtà gli economisti sono tutti marxisti perché Marx sosteneva che la cultura non aveva nessuna importanza ma Max Weber l'ha sempre detto quindi l'effetto della religione via di seguito c'è un ritorno in economia su questi punti c'è una letteratura proprio di economia culturale nell'economia dell'istruzione questo in economia perché non voglio parlare per settori importanti come l'antropologia via di seguito questo è una novità l'enfasi era sempre sulla misurazione del ruolo delle istituzioni la qualità dell'istituzione il modo di insegnare il rapporto insegnanti i bambini via di seguito e soprattutto la grande difficoltà in questa letteratura siccome non si possono fare gli cosiddetti field experiment cioè non si può randomizzare i bambini perché i genitori non saranno mai disponibili a farlo ci sono dei problemi di misurazione e di selezione importantissimo questi risultati naturalmente che abbiamo individuato sono dovuti al fatto che abbiamo avuto la possibilità grazie alla Florida di avere accesso a questo dataset che è incredibile perché hai i certificati medici alla nascita misura il peso dei bambini quindi noi controlliamo per una serie di altre caratteristiche tra cui appunto sanità aspetti di questo tipo naturalmente aprono anche la possibilità ad altre ricerche che lascio qui per coloro di voi che volesse un breve riassunto di questa cosa nel 2022 con David Figlio e Paola Giuliano abbiamo scritto una piccolo riassunto di quattro pagine che descrive sostanzialmente il nostro contributo quindi questo ve lo lascio perché così non dovete leggere cinque paper grazie mille grazie passiamo la parola al professore Brunello vi chiederei un intervento di 15 20 minuti massimo troppo difficile farmi notare lì grazie intanto grazie alla professoressa Sapienza dunque io ho un compito difficile perché discutere cinque papers in quarto d'ora credo sia difficile per tutti e quindi naturalmente andrò a toccare un aspetto su cui credo il contributo della professoressa Sapienza sia molto importante e credo che ci sarà un dibattito abbastanza acceso in futuro su questo appunto perché poi cercherò anche di dire qualcosa sull'implicazione di politica economica di questi risultati e quindi mi concentrerò appunto su uno degli aspetti l'ultimo cioè l'effetto degli immigrati sui risultati scolastici dei nativi dove per nativi indicano nel nostro caso diciamo i ragazzi italiani ora una delle questioni di politica economica che spesso troviamo e anche di politica in generale è che molti sostengono che in Italia ci siano troppi immigrati e ad esempio nel 2010 il ministro dell'istruzione decise di mettere un tetto al numero di studenti immigrati nelle scuole primarie dove attenzione escludendo gli immigrati di seconda generazione cioè quelli nati in Italia allora il tetto del 30% ora è interessante la domanda questo 30% da dove esce perché il 30% perché non il 50% e il 20% ok credo che la preoccupazione però fosse dettata dal fatto che molti genitori di figli italiani erano preoccupati dal fatto di dover iscrivere i propri figli in scuole con molti immigrati ora non lo so quale sia la situazione della Sicilia ma se voi andate nel nord est o in Lombardia ci sono in alcune zone scuole in cui più del 50% gli studenti sono immigrati ora questo genera un fenomeno chiamato segregazione abbiamo delle scuole con tanti immigrati e delle scuole con pochi immigrati la professoressa Sapienza menzionava il caso della fuga dei bianchi in California ma questo avviene anche in Veneto non solo in California cioè gli studenti le famiglie iscrivono i figli in scuole private oppure in scuole dove ci sono pochi immigrati quindi come evitare questo problema mettendo un tempo ora vediamo un attimo di contestualizzare perché allora se guardiamo i dati Piso del 2018 quindi stiamo parlando di ragazzi di 15 anni la percentuale di immigrati di prima degenerazione nelle scuole è molto più elevata negli Stati Uniti il numero sostanzialmente quello che diceva prima la professoressa cioè 22% in Italia siamo intorno al 10 quindi noi abbiamo un problema per certi versi più limitato se guardiamo anche il Regno Unito la Germania lì il problema è certamente più serio in Italia poi il problema diciamo tende a crescere a diminuire con il grado di scuola perché tipicamente è più facile avere molti immigrati nelle scuole di infanzia e nelle primarie perché il fenomeno dell'immigrazione in Italia è molto più recente che negli Stati Uniti quindi in qualche modo diciamo l'entità del problema sembra essere minore ora quali sono i canali meccanismi per cui ci aspettiamo che gli immigrati abbiano un effetto beh ci sono dei canali negativi e dei canali positivi beh il classico canale negativo è che naturalmente se in una classe ci sono molti immigrati che non sanno la lingua l'insegnante è costretto a spendere tempo molto più tempo a insegnare le cose perché i ragazzi non capiscono quindi c'è un uso inefficiente della risorsa docente naturalmente può anche essere che gli immigrati hanno delle capacità cognitive più basse provengono magari da paesi dove il livello diciamo di conoscenza di base è più basso quindi ci sono dei canali negativi ma ci sono anche dei canali positivi per esempio immagino che gli immigrati coreani o cinesi negli Stati Uniti abbiano in media un livello di abilità superiore ai nativi quindi avere in classe di ragazzi di abilità superiore non è un effetto negativo è positivo e l'altro effetto che spesso gli economisti mettono in luce è diciamo che avere più immigrati è anche un modo per aprire la mente c'è un accesso alla diversità la diversità è un asset quindi abituare i bambini a diciamo a venire in contatto con culture diverse può essere un effetto molto positivo quindi effetti positivi effetti negativi il problema è alla fine quale di questi prevale è qui che il dibattito appunto secondo me è molto aperto quindi il mio compito è qui di farvi capire un attimo qual è la situazione diciamo anche la luce dell'ultimo studio di cui ha parlato la professoressa Sapienza l'evidenza qual è noi vogliamo capire se avere delle scuole più immigrati ha un effetto negativo sul risultato dei nativi ma potremmo preoccuparci anche sul risultato degli immigrati ovviamente ma primo aumento per i nativi quindi immaginiamo di avere due scuole la scuola H con molti immigrati la scuola L con pochi immigrati beh uno cosa potrebbe fare guardare i risultati medi della scuola H risultati medi della scuola L e fare la differenza e dire beh della differenza si vede per esempio usando i testi invalsi dalla differenza si vede che nelle scuole con tanti immigrati i risultati dei nativi sono peggiori questo però non è evidenza scientifica come ha sottolineato la professoressa perché la differenza nelle medie non fornisce l'impatto causale della quota di immigrati sui risultati dei nativi perché quello che sappiamo è che la differenza nelle medie è la somma dell'effetto causale e dell'effetto di selezione quindi il vero problema è come facciamo a togliere questo effetto di selezione ma cos'è l'effetto di selezione facciamo un esempio gli immigrati tipicamente tendono ad andare a vivere in luoghi dove le case costano poco quindi tendono a iscriversi in scuole vicine che sono le scuole dove vanno i nativi che anche sono di famiglie diciamo che non possono permettersi affitti alti quindi vanno nelle scuole dove ci sono nativi che provengono da condizioni sociali meno favorevoli quindi tipicamente per effetto di questa selezione c'è una correlazione negativa tra tanti immigrati e nativi che hanno una performance bassa ma non è perché sono gli immigrati che generano una performance bassa è perché in quelle scuole con tanti immigrati ci sono nativi diciamo con livelli bassi quindi naturalmente lo sforzo e il contributo secondo me di gli economisti rispetto ad altre scienze sociali che ovviamente hanno dato il loro contributo sul tema è quello di cercare di identificare l'effetto causale e quindi qual è la strategia la strategia predominante pre diciamo sapienza qual è è quella di dire benissimo la selezione è fondamentalmente tra le scuole cioè le famiglie scelgono le scuole dopodiché prendiamo i dati delle scuole facciamo le medie delle classi perché ovviamente vogliamo evitare le selezioni delle classi quindi prendiamo i dati per livello per esempio nella scuola primaria la scuola ha primo, secondo, terzo quarto, quinto livello ci sono cinque livelli giusto? lì naturalmente tra la prima della primaria e la quinta della primaria il livello degli immigrati può cambiare ma cambia per ragioni tipicamente demografiche cioè io mi trovo ad avere tanti immigrati in classe perché sono in quinta rispetto a uno che in prima semplicemente perché ho cinque anni di più quindi diciamo quello che si dice in questo caso qui è che l'allocazione degli immigrati tra i gradi nella stessa scuola uso anche un inglesismo è as good as random quindi è come se fosse stato assegnato casualmente con un elicottero che passa e distribuisce i immigrati scusate non è un bel esempio tra le varie scuole quindi questa è stata la strategia finora e il risultato fondamentalmente è stato quello di trovare un effetto negativo su quello tornerò ora cosa hanno fatto di nuovo Sapienza ed altri di dire no attenzione la scelta delle scuole è fatta dalle famiglie quindi come faccio a generare variazione random nella quota di immigrati prendo le famiglie che hanno almeno due figli ora siccome le famiglie tendono generalmente a scrivere i figli nella stessa scuola è probabile che se questi figli hanno età diverse siano esposti per ragioni puramente demografiche a quote di immigrati diverse come se fosse passato un elicottero quindi usano questa variabilità all'interno della famiglia per identificare l'effetto ok quindi sono due strategie diciamo alternative di identificazione dell'effetto con risultati drammaticamente diversi ora io non sono molto d'accordo sul fatto che la strategia uno diciamo quella tradizionale non abbia risolto un problema di selezione diciamo un approccio diverso che ha in qualche modo affrontato lo stesso problema quello che in qualche modo lascia perplessi è la grande differenza dei risultati perché l'approccio diciamo che guarda alle scuole e non alle famiglie trova in generalmente un effetto negativo qui c'è ci sono alcuni contributi della letteratura vi faccio vedere solo un esempio che ho fatto io così prima di venire usando i dati invalsi usando questa strategia qui si vede chiaramente un effetto negativo attenzione però un effetto piccolo qui stiamo dicendo che se aumentiamo la quota di immigrati del 10% la performance di risultati scolastici matematica dei ragazzi delle scuole primarie italiane diminuisce dell'1,3% sì oddio non è un grande quello che invece loro trovano è un effetto completamente opposto e questo effetto è generato dalla strategia di identificazione è una strategia che io trovo molto interessante molto interessante però attenzione c'è qualche diciamo prezzo da pagare per questa strategia per esempio tutte le famiglie americane che hanno un solo figlio sono esclusa dal campione parlo del 25% del campione quindi questo si applica solo alle famiglie che hanno due figli o più e devono essere tra l'altro figli che hanno età diverse perché se hanno la stessa età sono esposte allo stesso livello di non c'è variabilità naturalmente per essere corretti nel paper di sapienza loro studiano anche un altro aspetto importante cioè che le famiglie iscrivano loro figli in scuole diverse perché ce ne sono e lì c'è una strategia tecnica che non ho tempo qui di descrivere ma fondamentalmente diciamo quello che si trova è il risultato sorprendente l'effetto dell'immigrazione ci sono col tempo l'effetto dell'immigrazione diciamo sul risultato dei nativi è positivo soprattutto per le minoranze etniche ma anche per i bianchi ora la prima cosa che mi è venuta da pensare è che probabilmente gli immigrati americani sono diversi da quelli italiani non lo so da quelli europei cioè non abbiamo la stessa popolazione no voglio dire noi non abbiamo immigrati adesso non lo so in florida ma non abbiamo immigrati coreani che sappiamo abbiamo visto prima i giapponesi i coreani sono super star per forma scolastica quindi se abbiamo un sacco di cinesi o di coreani nelle nostre scuole beh ben vengano no questo non mi sorprende però molti degli immigrati sono ispanici giusto quindi questo è per certi versi mi lascia un po' mi incuriosisce quali sono concludo l'implicazione per le politiche educative beh appunto in Italia questo vincolo del 30% beh appunto i risultati della professoressa sapienza cosa ci dicono ci dicono che è un vincolo che non ha senso anzi dovremmo aumentare gli immigrati nelle scuole perché il 30% è poco perché se avessimo più immigrati naturalmente avremmo risultati migliori mentre i risultati tradizionali che trovano effetto negativo ti dicono il contrario che dovremmo ridurre gli immigrati in realtà la cosa è un po' più sottile perché se noi se noi prendiamo due scuole con 100 studenti per scuola nella scuola A ci sono 40% di immigrati nella scuola B 10% quindi c'è una certa segregazione tanti immigrati nella scuola A pochi nella scuola B bene allora facciamo una politica diciamo di inclusione spostiamo una parte di immigrati dalla scuola A ora usando le stime di sapienza i nativi nella scuola A dove ci sono tanti immigrati stanno peggio perché perdono gli immigrati ma i nativi della scuola B stanno meglio perché guadagnano più immediati però dal punto di vista del decisore pubblico qual è la differenza il problema è che quello che cala in una scuola aumenta nell'altra e quindi l'effetto complessivo è nullo il vero problema è la riduzione di immigrati nella scuola A ha un effetto negativo minore dell'aumento degli immigrati nella scuola B o no ora i risultati di sapienza come quelli della letteratura fondamentalmente non ci dicono questo perché abbiamo bisogno di qualcosa in più bisogna sostanzialmente usando un termine tecnico che gli effetti degli immigrati sui nativi siano non lineari ok mentre i risultati di sapienza come quelli della letteratura sono prevalentemente risultati lineari quindi non ci dicono nulla su questo ultima slide ma davvero pensiamo che la presenza degli immigrati nelle scuole italiane siano la ragione degli scarsi risultati scolastici nei test Pisa invalsi io prendo coraggio e dico no anche se presumo possa essere una relazione negativa comunque la relazione che è stata trovata nella letteratura è piccola e probabilmente i problemi veri sono altri cioè più che guardare gli immigrati io per esempio avrei in mente un'altra categoria in modo provocativo gli insegnanti e con questo concludo grazie grazie intanto per l'invito grazie alla professoressa Sepienza e al professor Bunello per le cose che ci hanno detto permettetemi di risalutare e ringraziare la professoressa Cuce il direttore del dipartimento Cellini al quale tra le altre mi leggo un sentimento di amicizia interessante le cose dette stravolgo le cose che avevo pensato e provo anche a rispondere nell'immediato ad alcune delle delle sollecitazioni sorte dal tavolo e due elementi innanzitutto uno è la condizione di povertà e l'altro è la condizione culturale delle famiglie oltre che chiaramente lo lo sfondo sociale gli Stati Uniti sono un paese che storicamente abbiamo imparato a conoscerlo come la popolazione col trattino italo-americani spano-americani afro-americani un mondo che non ha chiaramente tutelato la società e la popolazione dalle difficoltà di un percorso integrativo anche caratterizzato da difficoltà di diversa natura su tutte penso alla questione razziale ma chiaramente parla di una migrazione come ben ha raccontato la professoressa Sapienza che riguardano etnie che noi meno incontriamo noi incontriamo molto una migrazione in Sicilia sull'asse sud-nordo del pianeta e in Italia invece ancora vince l'asse est-ovest quindi sono due storie diverse accanto a questo c'è la condizione di povertà che è uno degli elementi importanti anche rispetto all'inclusione sociale e quindi alla questione culturale che è stata trattata noi ci percepiamo come uno dei paesi più poveri d'Europa nel 2022 sappiamo che sono 95 milioni le persone a rischio povertà meno male lo stesso numero dell'anno precedente in Italia sono di meno anzi sono un po' di più il 24% della popolazione contro il 22% europeo ma la Bulgaria al 32% la Romania al 34% la Grecia e la Spagna al 26% non siamo il paese in una condizione di povertà assoluta e quindi abbiamo più difficoltà a dare retta su questo però l'Italia è spezzata perché mentre regioni come l'Emilia Romagna per dire una grande regione o la Valle d'Aosta una regione decisamente con una minore estensione hanno una popolazione a rischio povertà del 10% nel sud Italia siamo al 40% quindi sono razioni veramente diverse a livello di povertà e poi c'è la questione molto bella della cultura noi abbiamo in Italia un altissimo tasso di dispersione scolastica ma proprio nella città in cui ci troviamo a parlare oggi abbiamo il record europeo di dispersione scolastica il doppio della media nazionale e quindi quando parliamo di integrazione abbiamo difficoltà anche a capire integrazione chi deve integrare chi perché abbiamo delle difficoltà importanti nella nostra società io chiaramente prendo atto perché conosco il prestigio di chi mi ha preceduto però essendo presente sul territorio insieme alla comunità di Sant'Egidio devo subito dire alcune cose e qui il problema è che c'è una società che ha accettato di vivere una condizione di ignoranza tutta che non sente vera la ferita dell'istruzione e noi parliamo tanto della pazienza però mi sembra che c'è un modo predatore di vivere che rende pressoché inaccessibile una società del convivere dove c'è spazio dell'altro tant'è vero che abbiamo grosse difficoltà ad aiutare la prima generazione non di bambini ma dei genitori non ci sono scuole gratuite di insegnamento della lingua e della cultura italiana sul nostro territorio se non per come dire un merito da riconoscere alcune realtà associative che lo fanno in termini di volontariato e quelle poche realtà presenti risultano essere gravemente insufficienti questo ha di riflesso che è impensabile immaginare la presenza dei bambini nati da generazione da prime generazioni o che addirittura sono entrati insieme ai genitori che si iscrivono nella scuola e che conoscono la lingua e la cultura italiana e questo è un fatto che noi viviamo con una difficoltà estrema perché su una frase colorita io sono poco accademico aveva molto ragione Lorenzo Milani che abbiamo celebrato a Malgio quando diceva ogni parola che non impari oggi è un calcio nel sedere che riceverai domani e uso dei termini più gentili rispetto a quelli che usava Milani cioè quello che voglio dire è che è evidente che si è persa la tensione di vivere come dire un destino comune e costruire una società dove ci sia spazio per tutti e secondo me è stata particolarmente vero durante il periodo della pandemia e del lockdown dove abbiamo visto da una parte parlo delle esperienze della comunità di Sant'Egidio e delle nostre scuole della pace che sono delle scuole pomeridiane gratuite che raccolgono bambini italiani stranieri cristiani musulmani e che dialogano con le scuole ma a volte in città come Catania suppliscono perché abbiamo molti bambini che non vanno a scuola è questo 25,24-27% dei bambini in dispersione scolastica numero che è cresciuto chiaramente con la pandemia e noi per esempio abbiamo visto una forte fame di tecnologia per i bambini da parte dei genitori sono stati i genitori dei bambini stranieri a chiederci tablet a chiederci un pc portati a chiederci anche un telefonino quando noi abbiamo posto il problema a tanti genitori italiani parlo di famiglie che provengono da quartieri meno agiati che raccolgono con più facilità famiglie in condizioni di povertà di qualsiasi proverenza e quindi anche quella italiana noi avevamo famiglie con quattro bambini cinque bambini perché le famiglie di alcune periferie sono anche le più popolose dove il cellulare c'era la mamma e il papà e quindi tutto questo mondo di didattica a distanza erano naturalmente esclusi perché papà non lasciava il telefonino a casa o lo lasciava in mano i bambini oppure lo lasciava a chi dei quattro bambini ma questo non veniva sentito come un'emergenza come un elemento che avrebbe invalidato un percorso formativo per non dire di integrazione dei minori e questo è un fatto che viene da lontano perché è vero che in Italia ovvero in Sicilia parliamo da almeno dieci anni di emergenza quando parliamo di immigrazione e abbiamo grosse difficoltà a raccontare la società del convivere non solo quella presente ma quella che vorremmo costruire ma addirittura da prima porto solo un piccolo esempio anzi lo propongo al dipartimento perché secondo me va studiato vedo il professor Caserta il professor Romano la mia amica Teresa Consoli e altri a Ragusa vicino Catania c'è una scuola elementare dove noi andiamo da almeno sette anni otto anni che stava per scomparire ma che inizia a acquisire un sacco di iscritti di bambini kossovari perché durante la guerra in Kosovo fu proprio comiso ad ospitare delle famiglie di kossovari addirittura l'allora presidente del Kosovo questo bravo filosofo fortodosso Ibrahim Rugova che è stato un mio caro amico che oggi non c'è più andò a trovarli e i bambini kossovari salvarono la scuola di Ragusa dalla chiusura perché queste famiglie dalla base si sono trasferite in città chiaramente vanno a Ragusa eccetera eccetera e sono almeno cinque anni sei anni che questa scuola quindi io sto parlando del 97 oggi siamo nel 2023 non voglio esagerare mi tengo stretto sono almeno sei anni che questa scuola è il 100% della popolazione di immigrati perché c'è l'idea che non si devono mischiare ma i kossovari che continuano a essere presenti su quel territorio sono più ragusani dei ragusani io ho ascoltato con molta attenzione le cose dette però purtroppo ho sentito proprio una distanza quanto siamo distanti rispetto alle cose alle proiezioni che voi citate perché ci sono alcuni temi uno ripeto mi sono posto domanda di chi integra chi ma soprattutto manca la visione la visione comune dal quale poi si spezzano e come dire quelle esperienze del quale sentiamo tutti bisogno se no continueremo a essere sempre in condizioni di emergenza perché siamo sempre all'anno all'anno zero allora individuato alcune delle cose che secondo me sono urgenti il primo è effettivamente dedicarci a questo mondo di genitori soprattutto la primissima generazione e dovremmo misurare quante sono le opportunità di insegnamento della lingua italiana sul nostro territorio tenendo presente tutte le diversità l'Italia è spezzata non c'è per l'Italia un'accoglienza uguale una dimensione una tensione per la scuola e per la cultura uguale abbiamo queste difficoltà prima questione noi dobbiamo mettere i genitori nelle condizioni di poter trasmettere dei contenuti linguistici e culturali ai loro fili e dell'insegnamento della lingua la seconda cosa dobbiamo avere più chiaro una visione di quartiere e parlo di questa città ma lo potrei generalizzare vedete Catania è una somma di quartieri periferici il più grande si chiama Librino che è conosciuto in buona parte della città che ha circa 90.000 abitanti e Catania è una periferia di Librio ma si sente centro e questo è un grosso problema perché non ci stiamo rendendo conto di quanto siano crescendo le periferie soprattutto in termini di bambini e poi l'altra questione è se non c'è un centro non c'è una periferia quando non abbiamo tassi di dispersione scolastica così alti vuol dire che nei quartieri siamo al 40% al 50% e noi non vediamo oggettivamente un centro della città che in termini di regole in termini anche culturali di proposta culturale ha qualcosa da insegnare alla periferia ecco perché si ribalta il Librino e il centro e Catania inteso come centro storico della città è diventata una periferia come succede in tante altre parti del mondo ma questo che non vuole essere per me solo una lamentela secondo me apre il grande piano del territorio del territorio comune in cui investire e quindi ci vuole più cultura italiana più lingua italiana più attenzione per i bambini tutti tenendo conto che effettivamente non dobbiamo mandare la palla dall'altra parte dire solo che è giustissimo ne prendo solo atto perché non ho delle conoscenze per poter dire diversamente ma ci mancherebbe altro tenendo conto che però il raggio di azione nostro è troppo stretto per far entrare altri e questo è la mancanza di visione di un centro che non c'è più e quindi sono tutte periferie anzi isole alla deriva allora l'ambizione di tanti che entrano nella nostra città che entrano nella nostra società e non trovano nessun appiglio diventa una condizione in cui si migra per migrare come se la felicità fosse un luogo geografico lo fanno i migranti tant'è vero che l'Italia ha una popolazione straniere dell'8,6% in perfetta linea anzi 0,1% in meno rispetto alla media europea ma la Sicilia c'è il 3,7% vuol dire che siamo una terra in cui la gente arriva e poi se ne va perché non si capisce che ci deve stare a fare qual è la proposta e non è una gran conquista ma permettetemi lo fanno i nostri figli lo fanno gli italiani chi ha le capacità la white flight da noi vuol dire che se ne vanno ma non nella scuola privata se ne vanno all'università bene che vada di Milano di Roma di Politecnico di Torino è un andare per andare è un viaggiare per viaggiare e soprattutto non c'è una credibilità di una generazione di adulti responsabili che oltre la paternale di dire dovete rimanere qui e il futuro della vostra terra è qui non sa dire nulla tant'è vero faccio un esempio per dire come direttiamo i nostri figli sulla questione ambientale li abbiamo lasciati soli sono scesi in piazza hanno fatto un discorso serio ma nessuno ha ricevuto queste tensioni e avevano qualcosa di dire per il futuro allora e concludo io ho pensato tutt'altra cosa per questo incontro però ho trovato irrinunciabile provare a dare il mio piccolo contributo di commenti in questo io vedo che c'è una fame una fame di futuro che chiaramente riguarda tutti i bambini tutti coloro che sono in condizioni di formazione fino all'università credo che c'è una rassegnazione degli adulti e un'assenza di cultura a lungo raggio che vuol dire futuro e che vuol dire in altri termini che è la grande lezione che dal mio punto di vista ci ha dato Bergoglio quel 27 marzo quando a San Pietro da solo diceva siamo tutti sulla stessa barca e che è quella lezione che noi in pandemia non abbiamo saputo ereditare qui invece siamo al si salvi chi può ognuno pensa se al sé ognuno pensa al proprio figlio siamo pronti a sacrificare i figli degli altri che non è la contrapposizione italiani stranieri o generazione contro l'altro sono i fatti miei e tutto il resto questo è uno schema che sicuramente si può scardinare ma che pone tutti in un panorama in uno scenario comune che è quello del senso del noi che abbiamo smarrito è che dal mio punto di vista ha reso profetica una piccola scuola come la scuoletta di Barbiana di Lorenzo Milani che ha saputo parlare come il senso della cultura e dell'educazione ha saputo includere una generazione che oggi raccontano quella scuoletta non solo come la nota eroica della propria vita ma anche come un modello da riprodurre in società come la nostra con troppe periferie e con nessun centro che la cultura ovvero l'università insieme alla scuola e all'associazionismo trovino quel senso del noi per proporsi come un nuovo centro del quale sentiamo tutti molto bisogno grazie grazie saluto anch'io tutti i relatori a questo tavolo i docenti l'amplissimo direttore tutti gli studenti e soprattutto coloro i quali stanno chiaramente in pensiero per gli esami che si avvicinano e quindi li ringrazio ancora di più per essere qua e non me ne vorranno gli altri se magari mi rivolgerò più a loro che a tutto il resto ne approfitto per augurare anch'io i migliori auguri per l'anniversario della scuola superiore di Catania io sono figlio di questa università e i miei sono studi giuridici non sono studi economici quindi probabilmente le riflessioni che farò tradiscono più questo chiaramente oltre che evidentemente quello che può essere il contributo che dà così la lente di ingrandimento della croce rossa italiana non siamo qui per voglio dire dire che bisogna studiare di più ma evidentemente chi sta qui questa scelta l'ha fatta però non posso non rilevare che dai contributi scientifici di ricerca che ci sono stati presentati assolutamente interessanti diciamo che ecco questi contributi danno assolutamente ragione a quello che ci dicevano e che ci dicono le nostre le nostre famiglie cioè che comunque quello che è studiare quello che è immaginare di ampliare la propria cultura ha un impatto certamente positivo per tutto il resto della vita e non è solo un'affermazione così fine a se stesso dovuta al guardarsi intorno ma addirittura è suffragata da dati da dati empirici mi ha molto colpito questa impostazione quella per cui i valori culturali hanno un impatto economico mi ha davvero molto colpito perché in realtà negli ultimi anni siamo stati quasi abituati a sentire il contrario cioè quello che l'economia è una cosa che comunque va per la sua strada e le sue leggi vanno rispettate tutti i resti in qualche maniera si deve adeguare ecco anche se fosse vero oggi noi abbiamo ascoltato che l'economia ove voglio dire vogliamo davvero immaginare una crescita non prescinde anzi assolutamente non prescinde da una reale da un reale analisi da un reale capacità per le nostre comunità di così di sviluppare cultura di sviluppare di sviluppare valori e in questo senso anche l'esperienza che noi abbiamo avuto parlo anche come Croce Rossa Italiana in quella che è stata la le iniziative che sono state prese a favore delle persone migranti si sono inserite un po' in questa in questo in questo binario quindi da un'assistenza che è la prima assistenza quella per i beni di prima necessità la Croce Rossa Italiana ha mutato la sua o ha integrato la sua azione privilegiando tutta una serie di percorsi innovativi per cui si mira a consentire alla persona migrante di riconquistare una propria autonomia e quindi di fornire formazione istruzione e capacità di diventare persona che dà il proprio contributo e che si realizza perché oggi come oggi di questo io voglio anche ringraziare tutti i relatori perché si è proprio discusso della così dell'impatto e non si è più parlato come anche sottolineava Emiliano di migrazione come emergenza perché io è da dieci anni che sento parlare di migrazione come emergenza il presidente regionale della croce rossa dieci anni fa quando ci fu quel periodo di sbarchi 150.000 persone sulle coste siciliane ecco da allora parliamo di emergenza a me l'emergenza poi un po' in croce rossa siamo abituati a gestirle significa una qualcosa che non è preventivabile non è addirittura nella cultura di preparazione all'emergenza si fanno tutta una serie di studi e di addestramenti oltre che di formazione per mitigarne gli effetti invece qui si parla di emergenza di un fenomeno che evidentemente non è emergenza è strutturale l'uomo va incontro va a cercare il pane ce l'hanno insegnato alle scuole elementari non è una cosa talmente complicata una volta una giornalista mi intervistò mi disse ma secondo lei cresceranno gli arrivi eccetera ho detto sì siamo aprile ma luglio cresceranno perché lo sappiamo tutti che dopo la primavera viene l'estate dando una risposta anche abbastanza scocciata perché questo questo gestire un fenomeno ripeto strutturale evidentemente con casistiche emergenziali non ci dà una visione non ce la dà qual è il tipo di assistenza che noi intendiamo fare qual è la finalità il posteggio di prima necessità e poi speriamo che se ne vadano oppure ecco magari se ne vanno in scuole diverse da quelle che fanno i nostri figli ci stiamo attenti ci informiamo oppure quella di far tesoro di quello che una persona può portare di fornire degli strumenti io vedevo quelle che erano le percentuali rispetto al resto Europa di studenti stranieri nelle scuole secondarie e l'ho trovato un dato agghiacciante perché il fatto che vedo poche ragazze poche ragazze e gli stranieri nelle scuole superiori certamente significa che non ci curiamo voglio dire di quello che accade ma io lo dico ora in termini molto egoistici da italiano significa persone in più che non si stanno non si stanno istruendo non si stanno formando per essere un domani persone produttive nella nostra società io invito tutti a guardare la questione sotto un profilo egoistico faccio il discorso uguale e contrario a quello che ha fatto Emiliano Abramo se lo guardiamo sotto un profilo egoistico qual è il motivo per cui una persona migrante o non migrante che sia povera o disagiata deve essere lasciata in questa in questa in questo status bene che vada bene che vada sarà una persona che lavorerà per procacciarsi il cibo non avrà tempo peraltro non avrà tempo neanche per curarsi dei figli e si creerà tutta una serie di sacche nella nostra realtà che poi in realtà non saranno economicamente di per sé produttive e non lo saranno ovviamente neanche sotto un profilo sociale quindi questo è un discorso su cui secondo me noi dobbiamo dobbiamo molto riflettere cioè non solo abbiamo avuto dei risultati empirici di una serie di ricerche che ci dicono che l'apporto di cultura valorizza anche quello che è la crescita economica ma noi siamo dinanzi al fatto che l'apporto di cultura e quindi di persone che domani diventeranno produttive le allontana dalla delinquenza io non credo che ciascuno di noi sia chiamato a voglio dire contribuire alla crescita economica fine a se stessa e non lo dico per una scelta ideologica lo dico perché lo dice la costituzione la costituzione chiama ognuno di noi a diventare una persona che si realizza nei suoi talenti nelle sue aspirazioni e all'interno come membro attivo di una comunità in tutte quelle che sono le esperienze sociali sindacati associazioni partiti in tutte le formazioni di carattere sociale che contribuiscono al benessere delle nostre comunità locali della comunità nazionale e per fare questo sicuramente ci vuole un investimento in termini proprio di apertura mentale e di e di cultura credo che la mancanza di visione ci potrà portare non solo ad un impoverimento ma certamente a avere delle comunità locali totalmente non resilienti oggi si usa tantissimo questa parola ma si usa e quindi come tale non se ne considera più la valenza noi abbiamo necessità di avere comunità locali che siano i quartieri che siano i paesini che siano le isole che siano i comuni di montagna o le metropoli che siano pronte alla gestione delle emergenze che siano pronte a contenere quelli che sono e a mitigare gli effetti di quelli che possono essere i disastri cambiamenti climatici o situazioni così il fatto che noi non lo vediamo più ci ha portato ad una chiusura sotto il profilo migratorio che in questa regione non aveva precedenti nei secoli passati non aveva precedenti nei secoli passati terra io all'estero mi vanto del fatto di avere un sangue dai diversi colori considerato che abbiamo avuto diverse presenze parecchie presenze culturali all'interno della nostra della nostra terra che ci hanno portato anche a avere una capacità di problem solving una cultura architettonica umanistica giuridica economica che è importante e a colori quali mi dicono sì però loro erano venuti a costruire gli altri vengono a rubare il lavoro rispondo sempre col discorso iniziale se noi le persone le mettiamo tutte davanti la possibilità di avere un buon grado di istruzione e di capire come possono essere utili a loro stessi nella nostra società non c'è nessuna differenza sulla loro per quanto riguarda la cittadinanza o il colore quindi su questa riflessione insomma vi ringrazio faccio una replica brevissima intanto grazie a tutti naturalmente come ho detto all'inizio le istituzioni sono importanti nessuno lo nega però la Florida è un posto dove la dispersione scolastica è altissima anche lì e c'è molta povertà la cosa che mi ha colpito ma forse non l'ho capito bene comincio dall'ultimo dal penultimo perché la cosa che mi ha colpito è che parliamo del 40% il numero che ho sentito da lei di dispersione di povertà scusi però la dispersione scolastica influenza sia i nativi che i nonno e questa è una delle caratteristiche che esiste anche negli Stati Uniti cioè c'è una parte della società che è disenfranchised cioè non sto qui adesso a fare la cosa che viene fuori io non ho avuto tempo che molto spesso gli immigrati che lei diceva non si fermano in Sicilia perché ne abbiamo al 3-2% ma non si fermano in Sicilia perché hanno capito che ci sono delle istituzioni migliori da un'altra parte gli immigrati che hanno risorse molto inferiori in media rispetto hanno però una voglia molti di questi immigrati di riscatto e non hanno un'abitudine al fermarsi perché hanno passato questa selezione fortissima e quindi quello che viene fuori nella mia ricerca è che in realtà le persone che sono più disenfranchised beneficiano di più da questo naturalmente messi nelle condizioni di nel senso delle istituzioni che comunque hanno una scuola una palestra un insegnante di arte insomma voglio dire delle cose basi non immaginiamo delle scuole di grande prestigio sono delle scuole pubbliche della Florida che non sono le più famose degli Stati Uniti e negli Stati Uniti c'è molta diversità però c'è un livello di integrazione sufficiente da poter aiutarsi e soprattutto da potersi aiutare coloro che hanno più perché nella società americana uno dei grossi problemi è in una parte della società lo spezzamento della famiglia che viene sostanzialmente dal retaggio della schiavitù in alcuni casi perché sono soprattutto le famiglie nere che sono non intatte via di seguito e questo è uno dei grandi problemi americani in realtà la popolazione immigrata almeno in alcuni di queste sacche produce degli effetti positivi naturalmente una volta che hanno un minimo di risorse c'è uno studio molto interessante di un famoso un libro molto interessante di un famosissimo che si chiama scarcity cioè scarsezza cioè lui è un economista molto famoso si occupa di economia dello sviluppo e dice se la persona psicologicamente non ha un livello sufficiente di risorse mentali che significa sostanzialmente anche livelli di sussistenza naturalmente non può operare quindi quello è il primo punto che sostanzialmente le vostre comunità poi intervengono su questi punti poi le istituzioni naturalmente devono fare la loro parte e qui capisco il punto del cioè me ne addoloro però non sono in questa in questa e l'altra cosa che mi ha colpito è che i tablet li chiedevano gli immigrati non gli italiani e quindi qui ci trovo scusate perché poi ho notato il proprio parallelismo però perché loro avevano capito che avevano bisogno di quello per andare avanti e quindi questo colpisce in qualche modo dal senso di un altro tipo di problemi che è sostanzialmente quello dell'integrazione della popolazione nativa che ha determinati livelli di istituzione più bassi che è un problema di tutte le società anche sviluppate soprattutto perché stiamo vivendo un momento di grande separazione del reddito cioè di grandi stiamo diventando tutti un po' come quelle società dove c'è l'un per cento possiede più dell'ottanta per cento delle risorse e questo naturalmente impoverisce ancora di più gli strati più 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 bassi quindi questo secondo me è interessante e ringrazio moltissimo per la discussione anche forse per aver spiegato meglio quello che facevo perché i risultati nostri chiaramente noi riusciamo a replicare i risultati del resto della letteratura quindi in qualche modo almeno facciamo forza sul fatto che troviamo un effetto negativo quando non controlliamo nel modo appropriato abbiamo un'evidenza fortissima che le famiglie sicuramente le famiglie e le famiglie più ricche selezionano le scuole in modo tale molto spesso da evitare le minoranze e quindi questo è chiaramente il punto che poi impatta su tutta la discussione di politica e di economia politica che chiaramente in Italia ha una storia molto più breve gli Stati Uniti sono un paese di immigrati che hanno discriminato sempre perché hanno discriminato i cattolici quando arrivarono dopo che arrivarono i protestanti sono lavori molto interessanti che fanno vedere che sostanzialmente pur avendo i meridionali dell'Europa meridionale risolto molti dei problemi di coloro che vivevano lì loro votarono il grande blocco all'immigrazione degli anni cioè gli americani hanno sempre avuto una storia di questo tipo poi si sono evoluti e alcuni pezzi degli Stati Uniti si sono evoluti di più altri di meno è sempre difficile fare la media però insomma sostanzialmente c'è sempre stato un'ondata di immigrati che è stato discriminato la cosa interessante della cultura è che secondo me supera alcune di queste barriere non dico che risolve tutto però è interessante che gli italiani discriminati negli Stati Uniti avevano una fondamentale differenza erano discriminatissimi abbiamo le grandi storie di sacco vanzetti e via di seguito però i genitori raccontavano ai figli se vedete la storiografia che raccontavano una cosa non vera cioè dicevano se lavori duramente ce la farai cosa che non era vero perché loro erano discriminati però a furia di raccontarlo in realtà qualcuno ci riusciva e poi piano piano passava ultimamente ho letto la biografia di Condolisa Rice che viene da una storia di discriminazione pazzesca perché è l'unica veramente grande statista che viene da una storia di schiavitù una storia di schiavitù dura e lei racconta nella biografia che i genitori per non fargli vedere la discriminazione le raccontavano delle cose che non erano vere e che alla fine che l'istruzione avrebbe risolto il suo problema e alla fine lei chiaramente capisce però fondamentalmente gli rimane questo punto quindi c'è un elemento che non è la risoluzione per tutti ma che sicuramente spiega perché in molte società e vorrei dire che non è questo non è vero solo degli Stati Uniti se guardate le storie dei grandi successi anche degli ultimi anni sono tutti immigrati cioè adesso c'è una grande ondata per esempio di immigrati indiani che fanno hanno fatto hanno un grande successo per tutti quelli che naturalmente noi vediamo con risultati ne vedremo ce ne saranno tanti altri che sono stati discriminati naturalmente la società deve provvedere al minimo e certe volte appunto le storie che raccontate voi sono invece le storie proprio di disperazione quelle non sono le storie di immigrati sono le storie di rifugiati e nel il rifugiato ha gli Stati Uniti hanno dei programmi di rifugiati che sono solidi cioè funzionano benissimo chiaramente non sono perfetti ma io ho dei colleghi universitari che vengono dalle guerre cioè che sono stati hanno visto ho dei colleghi universitari di grande successo che hanno visto il papà in Kosovo cioè hanno visto veramente la guerra poi sono finiti in uno di questi ghetti perché poi sono dei ghetti ma poi c'era l'insegnante brava che ha trovato il ragazzo gli ha dato la spinta in più e queste sono le storie diciamo da romanzi ma in realtà esistono cioè io sono circondata da queste storie più se vogliamo di quelli che avevano tutte le risorse naturalmente ci sono tanti che non ce l'hanno fatta ed è non è giusto perché noi sappiamo che poi questi immigrati hanno molte meno risorse quindi quelli che ce la fanno in realtà sono veramente eccezionali e questo è un po' quello che dobbiamo sempre tenere presente quando riguardiamo comunque grazie a tutti grazie mi viene in mente dico molto interessante questa analisi dei tratti culturali rispetto poi alle scelte di allocazione delle risorse molto interessante mi viene in mente rispetto a quel problema del gap di genere cioè le famiglie più abbienti ma che hanno come tratto culturale la discriminazione di genere realizzano scelte di allocazione di risorse che favoriscono ulteriormente diciamo l'allargamento del gap quindi le donne le bambine hanno performance peggiori nelle cosiddette stemme dico che è uno dei problemi fra l'altro che ricorre costantemente soprattutto forse in Italia ma anche d'altre parti allora mi chiedevo mi scusi perché ero un po' lontana mi sono avvicinata perché non sono riuscita a vedere quella slide dove c'era il modello e quali erano le variabili che erano le covariate che erano state inserite perché mi chiedevo questo ma capisco i dati della Florida perché siamo in un unico paese però probabilmente una non so se era inserita la variabile relativa alle politiche dei diversi paesi cioè se io vivo in un paese in cui le polisi di sostegno alla educazione education femminile rispetto alle materie scientifiche è ben abbastanza forte rispetto a un paese in cui non lo è ad esempio penso ai paesi diciamo anche all'interno dell'Europa i 37 paesi dei dati Pisa per esempio se questo effetto è stato considerato come appunto un effetto fisso quindi tenuto sotto controllo come lo erano stati anche altri effetti dico probabilmente la relazione di causa ed effetto si sarebbe colta in una maniera meno spuria quindi tener conto delle polisi diverse o meno all'interno dei paesi può magari dare un effetto esplicativo diverso l'altra considerazione mi viene dal professore Brunello sicuramente dico la valutazione degli effetti non soltanto con strumenti con modelli diciamo in cui preparare l'adattamento di tipo lineare ma attraverso strumenti di tipo non lineare probabilmente avrebbe dato un risultato diverso e una domanda ovviamente molto da provare e da tenere in considerazione l'ultima considerazione invece riguarda quell'effetto di segregazione che non vediamo soltanto rispetto agli aspetti educativi diciamo ma anche agli aspetti del lavoro cioè gli effetti di segregazione che si si realizzano anche sul mercato del lavoro dovuto all'appartenenza a un certo gruppo piuttosto che un altro e sulla base poi delle competenze delle capacità anche rispetto alla professione che ovviamente si svolge sono evidenti quindi mi chiedo quanto gli effetti di segregazione il white flying che magari come diceva il dottor Abramo in una città come la nostra ma anche in altri ovviamente si manifestano anche non soltanto tra gruppi etnici ma proprio tra gruppi di cittadini che appunto questi effetti li notiamo tutti poi dico soltanto una considerazione dico probabilmente questi effetti noi li notiamo perché la segregazione all'interno di un ambito non riguarda soltanto il gruppo etnico ma ripeto anche i cittadini ok la nota che volevo fare era questo mi è venuta in mente proprio seguendo il vostro le vostre esposizioni che non è lontana l'epoca in cui io vivo in un paese della dell'Etna nei paesi dell'Etna e mi ricordo quando i miei genitori fecero le scelte educative rispetto a dove andare a frequentare un liceo e sto parlando di alcuni anni fa veramente l'altro ieri c'era la discriminazione a Catania non ti potevi scrivere Alcutelli se non eri residente in città quindi noi il gruppo etnico non so cosa dire andavamo a scrivere un altro liceo che poi come l'ultima diciamo sollecitazione che il professor Brunello ha lanciato e l'effetto non era il fatto che si andava in un liceo in cui chi proveniva dai paesi etnei non poteva scriversi o meno l'effetto era un altro che quell'altro liceo dove andavamo noi il gruppo etnico diciamo discriminato era quello dove i docenti la qualità della docenza della governance era decisamente migliore dico e tutti sappiamo molto dico quindi mi è venuto in mente questa il vissuto diciamo rispetto non ad una considerazione che non è molto lontana da quelle che sono state fatte quindi professoressa mi scusi io non ho visto bene probabilmente questo effetto delle polisi era misurato in qualche maniera in quel modello grazie l'ultima mi fa ridere perché secondo me era l'ospedalieri comunque dove arrivavano ed erano bravi gli studenti erano bravi quindi c'è un effetto perché quello è l'effetto proprio della selezione cioè tu ti prendi l'autobus stai 45 minuti in autobus e via di seguito ma è ovvio che quando si diceva che in Bocconi erano più bravi i meridionali ma mica i meridionali sono più bravi ma erano quelli che avevano fatto il viaggio quindi questo è un po' il mi fa ridere questo ma è vero sull'effetto paese molti anni fa avevo scritto un lavoro questo quando si discuteva ancora genetica verso cultura in cui effettivamente guardavamo agli effetti fissi di paese e c'è un effetto fortissimo lo studio che faccio io guarda la Florida e i nativi della Florida quindi sono una popolazione relativamente omogenea e poi guardiamo anche questa national longitudinal study che sono tutti americani quindi unico paese e misuriamo la discriminazione di genere o le preferenze per i maschi in due modi uno con una con una survey in cui si chiede pensi che sia più importante per un bambino per un uomo avere un lavoro eccetera le classiche misure della World Value Survey che sostanzialmente misurano le tendenze nell'altro caso facciamo questa cosa un po' originale in cui vediamo le scelte demografiche della famiglia perché c'è un'evidenza che chi ha una una distorsione a favore dei maschi ha delle scelte di fertilità diverse e si ferma di solito quando arriva finalmente il maschio quindi si può in realtà calcolare una una preferenza quindi noi guardiamo in tutti e due i modi però guardiamo in un unico paese dove non c'è le policy non contano la storia delle policy o se vogliamo della generale cultura è già stata studiata in realtà è molto forte quindi noi quello che cerchiamo di capire se però perché sostanzialmente questa è la cultura all'intorno allora questa cultura di solito si attribuisce agli insegnanti ci sono dei lavori anche molto carini con i dati italiani che fanno vedere come gli insegnanti hanno un impatto su questo punto però la cultura nasce a casa quindi escludere i genitori e quindi il nostro esercizio assorbe tutte quelle altre caratteristiche che va a vedere la differenza su quel punto è un lavoro incrementale non è facile poi dire quanto conti un aspetto rispetto all'altro quindi questo è la questione del lineare mi sono dimenticata di dirlo noi abbiamo provato a fare e non abbiamo trovato assolutamente nulla abbiamo trovato provato a modellarlo in modo non lineare abbiamo cercato di capire se la concentrazione aveva un impatto questo quando cercavamo i meccanismi se avere molti compagni di scuola di un certo gruppo etnico faceva la differenza via di seguito in realtà no l'effetto più importante è quello di essere esposti a ragazzini che hanno delle preferenze per attitudini verso l'istruzione pur essendo anche accademicamente almeno all'inizio non così bravi quindi questo parlando di immigrati in effetti uno degli effetti principali passa attraverso il comportamento di classe cioè c'è molta più disciplina nelle classi dove ci sono immigrati rispetto alle classi soprattutto quelle dei meno ambienti cioè di quelli che tendono ad avere dispersione scolastica e quindi noi abbiamo delle popolazioni anche noi molto segregate quindi la popolazione che ha alta dispersione scolastica alto abbandono scolastico e alte assenze e molti procedimenti disciplinari a scuola beneficia di più di tutte dalla presenza degli immigrati perché gli immigrati di solito sono più disciplinati vengono da cioè credono quindi quando quando gli viene data la possibilità di solito hanno questa e i genitori si vede anche da determinate scelte scolastiche che fanno sono un po' come la cercano la scuola quando possono selezionano la scuola dove pensano che i bambini vadano bene eccetera eccetera chiaramente devono essere messi nelle condizioni di grazie